Per superare il turno, può puntare al suo premato personale, ha un buon traino davanti e decisamente... Sì, ha un traino che non è troppo distante dai suoi tempi, è migliore dei suoi migliori tempi, ma non troppo perché altrimenti potrebbe farlo andare poi i giri. Ha la settima corsia che quindi ha una curva lunga. Ha sempre trovato il meglio proprio negli appuntamenti impegnativi come questo. C'era il giudice sul volto della sesta corsia, infatti va a parlare con l'americana, ha fatto ritardare gli ordini di partenza e adesso forse c'è un cartellino. Verde, verde, verde. Beh, hanno chiamato l'altento. Proprio l'atleta americana. Sì, ma è un sistema che non ha tanto senso perché adesso in realtà gli mettono la pressione doppia come se si sentisse di aver fatto una falsa. Non aveva nessun senso di portarle poi il cartellino verde perché hanno interrotto, hanno dato il tempo. Ha dato l'altento e non c'è bisogno di dare cartellino. Se davano la falsa potevano decidere di dare cartellino. Questa va bene, cartellino valida in settima corsia Marta Milani. Mentre la favorita, Sania Richards Ross, è in quarta corsia. Subito dentro la Richards Ross come Franzina Moccherori che sta spingendo. Eccola lì, Moccherori che è andata a superare la nostra Marta Milani che le era all'esterno. Milani che deve tenere, diciamo, come riferimento Lee McConnell. Lì davanti Sania Richards Ross va a prendersi presto la prima posizione. La sfida è con Sherika Williams accanto a lei la giamaicana e poi con Franzina Moccherori passano le prime due e i due migliori tempi. Vediamo un po' il retellino finale per le tre atlete che lotta l'attenzione a Richards Ross che si fa soffiare il primo e il secondo posto. Attenzione che deve andare a cercare i tempi di recupero e non sarà facilissimo con questo risultato cronometrico. Marta Milani molto vicina al personale, una bella gara, brava. Potrebbe essere, sì, da 51 e 90, forse qualcosa di più. Forse anche così meno, adesso bisogna vedere bene. Però ha corso di nuovo una bella gara. Potrebbe essere scesa ancora sotto i 52. Il rimato personale per Franzina Moccherori, la statunitense, 50 e 24, 50 e 46 per Sherika Williams. Non si è spaventata per il cartellino verde. No, anzi, la pressione l'ha fatto bene. Sherika Williams è andata al suo primato stagionale. La campionessa in carica, Senna Richards Ross, si è fermata a 50 e 66. Marta Milani al primato personale. Un centesimo meglio di quanto aveva fatto. Comunque correre sui suoi massimi livelli. Ed è quanto di meglio si possa chiedere a un atleta. Abbiamo detto proprio che gli appuntamenti era successo a Barcellona e gli europei. E qui, due volte, al primato stagionale, al primato personale. Non si può chiedere di più. Speriamo che decida cosa vuol fare. Se vuol fare i 4 o gli 8, in modo da preparare poi la stagione definitivamente solo su una specialità. Tra l'altro, Paolo, scusami, Richard Rossi, in questo finale mi sembra che abbia mollato un po'. E sbaglia, perché questo 50 e 66 non è che la tiene a riparo da chissà che. Al momento è il secondo dei due tempi di recupero disponibili. E se la terza della prossima semifinale andasse più veloce... Non ce la faceva più, perché ha guardato con la coda dell'occhio, ha guardato le altre due. E non... Ma proprio nel finale gli ultimi metri, sì, può darsi che abbia... Vediamo un po', eh. Però qui ha corso fino in fondo. Ha questo suo modo, questa sua distribuzione che rinuncia. Guarda qui, guarda qui. Insomma, quando arrivi con una non grandissima velocità, il fatto di rallentare ti toglie più centesimi che se non fosse un 100 metri. No, assolutamente. È il secondo tempo, 50 e 66, dietro il 50 e 53. Vediamo la Milani. Eccola qui, la nostra personalizzata su Marta Milani, che è andata al suo primato personale e ha fatto quanto doveva. Ha fatto corsa a sé, perché l'inglese è partita molto forte. Lei ha fatto il suo ritmo, l'inglese che va davanti. Sa Paolo, che ha pensato a me corori. Sì. Ma molto strano. Si vede anche fisicamente un'altra cilindrata, un'altra... Vedi che qui stava spingendo tantissimo la... La stagna Richard Ross. Paolo, la Richard non ha... Non ha il fondo, sì, non ha il fondo per più turni. Per una gara a botta secca come a Londra, tutto bene, per i turni niente da fare. E anche un'altra considerazione, Luca, sono affondate un po' le russe. Sì. Di cui ieri avevamo parlato molto bene. Guarda che bel finale la Milani. La Milani bisogna renderle merito di riuscire. Eccola lì. Rendiamo le merito di riuscire sempre e comunque a fare grandi risultati nei grandi eventi. Esatto. Non ha paura di niente, Marta, brava. Lo sottolineavamo ieri, lo ha sottolineato adesso Luca Di Bella in telecronaca. Non hai timori quando ti trovi nelle situazioni importanti e questo è fondamentale per quel che hai deciso di fare. Eh sì, a queste manifestazioni è importante non avere timore e avere un po' il coraggio, insomma, di buttarsi tra queste grandi atlete. Oggi mi sembra di essere partita forse un po' più lenta, però non lo so, dopo chiederò il passaggio ai due. Io ho sempre un po' di difficoltà quando parto esterna, però è venuto anche il personale, anche solo di un centesimo, però è sempre il personale, quindi va bene così. Adesso ce lo facciamo dire, intanto ti puoi mettere anche l'auricolare così lo ascolti anche tu, Luca. Conferma rispetto a quel che chiedeva Marta. Che cosa? Al suo passaggio, a com'è partita rispetto a ieri. Il passaggio è molto difficile da prendere, o gliel'hanno preso i tecnici, da qua è difficile prendere il passaggio. Vediamo un po' se qui a occhio riusciamo a individuare... Perché l'inglese sicuramente... No, l'inglese è partita molto forte, è partita molto forte. E l'americana, vabbè, che ha chiuso poi il 50, però a fine curva l'aveva già preso. A me non hai dato l'idea di essere partita tanto diversamente da ieri, hai fatto una gara molto simile. Qui hai cominciato a cambiare, nella curva hai cambiato veramente passo e ti sei avvicinata all'inglese. E poi un bel finale, perché è un bel cento metri finale. L'anno, diciamo, del finale perché... Hai lavorato tanto. Continuo a chiudere forte quest'anno, ho vinto il titolo italiano così, ho vinto la gara d'Orgali in questo modo e ho guadagnato qualche posizione qua uguale. Comunque sono soddisfatta, a fine pari personale al mondiale, direi che è fantastico. Come dicevamo anche ieri, l'anno scorso sembrava che avessi già raggiunto un traguardo importantissimo, sei cresciuta ancora, ti sei ritrovata a questo mondiale migliorando. Sì, speriamo di continuare a crescere, a fine ho 24 anni, posso ritrovare ancora abbastanza giovane, quindi insomma spero di avere davanti ancora una bella carriera. Aspetto a quello che hai visto, alle grandi, la Richards un po' in difficoltà oggi, Harrison Felix un po' meglio, come le vedi tu, le grandi? Ma adesso non ho potuto guardarle bene perché la prima batteria non l'ho vista perché ero sotto. Poi la seconda ho gareggiato io. A naso? Non è ancora partita. No, ma io vedo che è un po' il livello in generale, sembra un po' più basso. Sono gli inglesi che correvano tutte forte l'agosto, adesso non stanno correndo più forte. E adesso vediamo le altre. Bene, grazie Elisabetta Caporale, Marta Milani, complimenti a lei.